Luna, mi dispiace, mi dispiace per non esserti stato accanto. Luna, avevi tante cose da dirmi, e io a te, ma ormai è troppo tardi. Mi dispiace, quasi tanto. Non ti deluderò. Io, lo so bene. Luna, io e te saliamo presto insieme. È una promessa. Tu cosa hai da guardare? Ehi, sveglia voi due. Che cosa è successo? Noct, tutto bene? Sì, ho visto la glaciale. Ora è sparita. Andate a controllare i macchinisti. Va bene, ce lo fai? Sì, sto bene. Andiamo. Mi sento in diritto di chiamarti Noct ormai. Sì, per un momento ho sentito il soffio gelido della morte, un grande potere quello degli dei, ma poi ho arrammentato che sono immortale, una benedizione maligna quanto penevola. Il tuo attacco però mi ha fatto male, nei sentimenti perlomeno. E dopo tutti i momenti assieme, ricordi questa. Ah, ma la domanda giusta è se ti ricordi di lui. Un ritorno esplosivo. Non è vero. Fermati! Non è mica tua! Lui dov'è? Lui chi? Il pistolero è a un tiro di schioppo. Dove? E dove se non a Graalia, capitale imperiale? Sono sicuro che non veda l'ora di rivederti. Potresti anche trovare il tuo cristallo. Con tutti questi demon ti farebbe davvero comodo. Allora ci vediamo presto. Non voglio trattenerti mentre il tuo amico ti aspetta. Non voglio trattenerti mentre il tuo esperto voi ci posso sempre fibre mesa. Bisogno. Non voglio seguro. No questo non sia daroyo. Vi